conferenza stampa del direttore sportivo della pianese francesco canci che fa il punto della situazione dopo un terzo di campionato prego con le domande inizierei da per galanteria da angela si è passato un terzo di campionato e possiamo dire che il lavoro che quest'estate pensavamo abbiamo iniziato a svolgere nel lontano ormai 5 di giugno quando ci siamo iniziati a riunire a programmare la lega pro oggi sta portando i suoi frutti abbiamo iniziato calcisticamente subito bene con ottime prestazioni alla prima giornata i ragazzi hanno risposto sia prima del passato che sono rimasti l'anno scorso che hanno vinto il campionato sia i giovani molto bene e la nota positiva è che siamo usciti da queste 13 partite dove penso che tutti hanno dato il proprio contributo tutti sono fatti vedere le qualità che hanno parte un paio di ragazzi che sono reali stefano che è arrivato un po in ritardo avuto un piccolo infortunio e il secondo portiere che al momento il ruolo del portiere è un pochino quello più più particolare tutti gli altri hanno fatto vedere le qualità per la categoria le hanno e stanno facendo il percorso giusto che ci immaginavamo prego a chi vuole tempo dire c'è un giocatore per i giovani che ti ha sorpreso particolarmente magari non ti aspettavi già una sentite sì 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 che magari non ti aspettavi una una crescita comunque un'affermazione del genere tra i professionisti subito e dell'immediato ma guarda i ragazzi che abbiamo preso tanti venivano già dal da settori giovanili importanti sicuramente quello che mi ha sorpreso per la professionalità e per gli allenamenti e per l'impatto è pietro boia il portiere che comunque arrivava da un contesto importante no perché comunque era due anni che faceva il terzo portiere con la nuova in un ambiente sicuramente molto particolare per questi ragazzi giovani che comunque si allenava con campioni come di bala come tanti altri giocatori no è venuto qua dal primo giorno si è calato nella realtà pianese che io continuo a dire canaria già nei professionisti dove si può lavorare bene dove questi ragazzi non manca niente però lui dal primo giorno si è messo a disposizione del mister preparatore dei portieri giacomo palmi e giorno dopo giorno ha fatto una crescita importante che comunque aveva giocato poco in questi ultimi anni quindi tutti sapevamo del valore del giocatore ma dovevo metterlo in mostra e giorno dopo giorno veramente ci rendiamo conto che è un giocatore importante che curando qualche piccolo difetto come tutti noi può fare strada poi dall'altra parte grande professionalità in tutti questi ragazzi ti dico lui perché giorno dopo giorno lo vedo molto molto competitivo direttore una domanda che probabilmente farebbe arrabbiare di ster fosteri no è un po provocatoria ma questa pianese è partita molto bene siamo un terzo del campionato come è già stato detto ancora molto lungo quindi il primo obiettivo è sicuramente la salvezza guardando però la classifica e vedendo comunque quanto è accorta questa pianese può sognare anche però ma guarda è giusto per far arrabbiare come detto tu mister prosperi dove noi anche a telecavere spente ci scherziamo ci discutiamo comunque io so dall'anno scorso di avere qua un allenatore con uno staff molto competente e che lo ha dimostrato vincendo il campionato l'anno scorso e lo sta dimostrando tuttora perché come ho detto subito questa squadra dal primo momento ha una propria identità grazie anche ai tanti giocatori che sono arrivati che si sono messi a disposizione e hanno grandi qualità alcuni secondo me faranno la pianese sarà il trampone di lancio e altri spero che sia un proseguo per la pianese per noi professionisti sicuramente in queste 13 partite abbiamo dimostrato di essere dai primi dieci posti però come dico sempre io e penso che questa pianese ci possa continuare a stare dipende tanto anche dalle altre partite noi dovremo affronteremo ora queste ultime sono sbaglio cinque partite prima del ginone di ritorno dove è fondamentale consacrarsi cioè continuare a giocare con questa intensità curando non sottvalutando nessuno perché come abbiamo giocato con perugia entele pescara che erano tante personate ora arriva vispesano pontedera e l'egnago e non va fatto il discorso inverso cioè arrivano per noi sono sempre tre punti che sono fondamentali anche perché allungheremo la distanza da quelle che sono sotto e ci consolideremo la nostra posizione quindi io penso che va rispettato l'avversario dobbiamo lavorare giorno dopo giorno sempre massimali come dice il mister e ce la giochiamo con tutti poi se riusciamo anche nelle prossime già da domenica a far sì che il risultato sia positivo ti dico che al momento siamo tra le prime dieci però è un campionato veramente difficile dove a oggi ti devo dire che c'è una squadra che abbiamo affrontato che è una squadra materasso tra virgolette direi di no ma c'è una partita in cui hai detto cavolo siamo proprio una bella squadra in cui i ragazzi ti sono piaccuti tanto e ti hanno reso soddisfatto ma se ti devo dire sono bastati anche i primi trenta minuti di di perugia perché in trenta circuiti la prima giornata vincevamo 3 a 0 contro comunque una squadra che la categoria conosce molto bene io penso che da quel giorno lì piano piano i ragazzi l'ambiente tutti sono resi conto che la pianese aveva una squadra un ambiente per poter affrontare bene questa questa lega pro quindi da quel giorno noi abbiamo sempre fatto il nostro percorso dove ci sono stati degli alti dei bassi come ci sono in questi campionati e poi un'altra prova di forza è stata sicuramente anche andare a pareggiare a Ferrara dove era la seconda se non sbaglio era il turno infrasettimanale contro una squadra forte un ambiente comunque caldo perché avevano bisogno di punti siamo riusciti con sacrificio e anche facendo ottimi trame di gioco a portare a casa un punto importante anche da Ferrara quindi è stata una partita di maturità secondo me questa squadra aveva più bisogno di capire che la categoria poteva poteva farla tranquillamente una domanda su Mignani ti chiedo come secondo te si sta comportando in questo campionato che insomma serve da ulteriore consacrazione dopo la grande stagione in serie di dello scorso anno e se a inizio dell'anno è stato diciamo complicato convincerlo a rimanere la pianese visto le offerte anche siena ovviamente che ha un forte impatto per lui visto che la pianese ma anche magari da altre squadre forse credo più rasonate della pianese allora Guglielmo non è stato difficile perché è stato il primo che ha voluto continuare questo percorso da ragazzo intelligente con la pianese perché aveva maturato dentro di sé la convinzione di di avere una maglia da protagonista poi va sempre dimostrato settimana per settimana nei allenamenti però è stato il primo che ha messo davanti a tutti la pianese come prima squadra in questa nuova avventura per lui dei professionisti e anche con un senso di gratitudine verso la pianese che l'anno prima l'aveva portato a Biancastagnaio in un contesto importante dove ne è messo nelle condizioni di fare i 19-20 gol che ha fatto l'anno scorso e dall'altra parte se non è Guglielmo sta facendo il suo percorso di crescita sicuramente trova degli avversari dei competitor diversi dalla serie D e quindi deve anche lui migliorare nella fisicità nelle qualità tecniche però ha già dimostrato in queste prime 13 giornate che è un giocatore che sa far gol è un giocatore che dà tutto per la squadra e per come la vedo io è un giocatore che è importante un giocatore che in medesima proprio la mentalità che dobbiamo avere per portare a casa l'obiettivo più importante di questa stagione Sì 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 no è una è stata una soddisfazione anche quello la perché comunque piano piano la gente si sta riavvicinando e con la vittoria dell'anno scorso si è si è creato grande entusiasmo su questo voglio ringraziare i tifosi perché comunque sono venuti in Sardegna sono venuti a ferrare il turno infrasettimanale dall'altra parte come ha detto anche il nostro presidente ci teniamo che loro ci ci sostengono sempre rispettando i principi di di realtà e di rispetto alle altre tifoserie perché vogliamo essere una squadra una società dai modello giovani ci piace che anche i nostri tifosi rispettano poi gli atteggiamenti i comportamenti la realtà in cui siamo quindi fa molto piacere avere questo entusiasmo ovviamente la domenica con noi sono convinto che si sono anche divertiti in queste loro prime trasferte e anche in Sardegna al di là del 3 a 0 che è stato un risultato molto rotondo però penso che vi ringrazio per la vicinanza vicinanza e a essere magari a un comportamento dai come piace al presidente Maurizio Sani prego per parlato del 3 a 0 della competenza a Degna mi riallaccio a questo per chiedere se questo risultato può lasciare delle scorie in vista della dispesa perché è un altro avversario dei risultati che è in un buon trend positivo e appunto se ha visto in questi giorni in cui la squadra ha avuto anche due giorni in riposo una consapevolezza anche del fatto che si può anche perdere prendendo diversi gol? Sicuramente il risultato non ci piace perché comunque perdere 3 a 0 un risultato così rotondo non fa piacere Dall'altra parte sappiamo che queste partite sono accadute e speriamo il meno possibile ma accaderanno perché fanno parte del nostro percorso, non della Pianesi ma penso di tutte le squadre sicuramente dobbiamo prendere le note positive perché come ho detto all'inizio anche in questa partita abbiamo recuperato alcuni giocatori che magari non giocavano da tanto e hanno dato le risposte positive perché fino al settantunesimo siamo stati in partita, io penso che chi era allo stadio sia anche divertito perché la Pianesi ha giocato a viso aperto contro una Torres che è molto forte che ha due anni che lotta per i primi posti e fino al settantunesimo siamo stati in partita con un'occasione capitata su una sponda di Sorrentino per Falleni e il calcio d'angolo dopo abbiamo preso il 2 a 0 che ha chiuso la partita sicuramente dobbiamo uscire consapevoli di avere un organico ancora più competitivo perché abbiamo recuperato tutti e curare dall'altra parte di piccoli dettagli come una palla inattiva, un calcio d'angolo per far sì che anche in queste partite, anche se era difficile fare risultato, uno può tenere la partita in bilico fino al novantesimo per far sì che comunque possa capitare di giocarsi veramente con tutti su tutti i campi però dobbiamo essere bravi a ripartire dalle nostre consapevolezze e anche arrabbiati comunque di aver preso un 3 a 0 ma non soltanto di cullarci sul fatto che abbiamo perso 3 a 0 solo perché era la Torres e perché era una squadra perché se no sarebbe l'inizio di un percorso dove non curiamo i particolari che sono quelli fondamentali che servono a noi perché già domenica arriva la Vis Pesaro che è una squadra che non è partita con i pronostici però è una squadra che sta facendo molto bene, ha vinto con il Pescara che era imbattuto quindi dobbiamo veramente alzare l'asticella